Musica Comunque ragazzi ho fatto oggi per farvi un video leggendario, intanto vi ricordo di lasciare un like, un'iscrizione, una campanella, condividere il video con tutti i nostri amici, seguitemi su TikTok e su Discord, quindi sentiamo il link in descrizione, il sesto è il link in descrizione per abbonarvi, il secondo è il link in descrizione per comprare i miei t-shirt, personalizzate di Xmax, sono fatte 100% in cotone, 100% in italiano ragazzi, vi ricordo ragazzi, il terzo è il link in descrizione per fare una piccola donazione, il quarto è il link in descrizione per seguirmi su sito e via la faccia, la manchilicot, veramente con YouTube. Buongiorno ragazzi a tutti e buona vigilia di Natale, ragazzi domani che è Natale uscirà un video leggendario a tema Natalizio, ma non vi faccio spoiler, aspettate domani, ragazzi questo vi uscirà alle ore 9, non mancare dopo in live, alle ore 10 del mattino, come abbiamo fatto anche ieri, ragazzi, leggendario ragazzi, non mancate dopo in live, alle ore 10 del mattino, vi ricordo ragazzi, tra l'altro, secondo il link in descrizione, se volete comprare i miei t-shirt, personalizzate di Xmax, vi ricordo ragazzi, se le comprate, diventete moderatori del mio canale, 100% 100%, anche se fatto le donazioni, ragazzi, quindi grazie mille per il supporto, mi ricordo ragazzi, tutti iscrivetevi che siamo a Road, tu, 2000 iscritti, tu, 2K, mancano solamente, più o meno 50 iscritti, ragazzi, dai che ce la facciamo, manca veramente, veramente pochissimo, siamo quasi, siamo quasi al nostro traguardo, che poi dopo sarà ovviamente molto, molto più lungo, perché 2.000 iscritti, ragazzi, bisogna fare molto, molto di più di 2.000 iscritti, però comunque, almeno, bisogna arrivarci a 2.000, poi dopo andiamo avanti, ragazzi, il nostro Road, non abbiamo un obiettivo per ora, perché dobbiamo andare sempre più avanti, ragazzi, non è che ci vogliamo fermare, noi vogliamo sempre andare avanti, noi siamo tutti una community, e siamo tutti una squadra, lo dico sempre anche in live, ragazzi, li si riverso io, li facciamo tutti insieme, perché siamo tutti una community, tra l'altro, io lo dico sempre anche in live, ragazzi, la community migliore del mondo, adesso, appena si apre Stamble, che ci sta mettendo un po', iniziamo a giocare, speriamo che si apre velocemente, perché ragazzi, non è che ci voglio stare qua 10 ore a aspettare, in realtà, vorrei giocare, vabbè, aspettiamo, aspettiamo, sono però contento che adesso, finalmente, è quasi Natale, domani, non vedo l'ora, oggi è la vigilia, buona vigilia a tutti, ragazzi, si è aperti, come avete avuto il titolo, come l'avete visto anche dalla miniatura, dallo screenshot che ho fatto, andremo a provare il nuovo evento, play the new level event, Tetris, ragazzi, leggendario, andiamo a giocarci subito, ragazzi, sono troppo, contento, caduta di Tetris, però prima andiamo a fare il giro fortunato gratuito, oggi, ragazzi, è un video leggendario, ve l'avevo detto, ragazzi, si vede anche da dietro che è tutto Tetris, tutto, tutto, è troppo leggendario, ragazzi, sono troppo contento, ragazzi, veramente, 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 troppo bello, intanto andiamo a fare il giro fortunato gratuito, che noi non buttiamo mai via, ragazzi, è un bel giro fortunato gratis, non se butta mai via, quindi, ragazzi, adesso vediamo un pochettino cosa esce qua, ruota della fortuna, vediamo un po', se è veramente ruota della fortuna oppure no, 1250 agentoni, magari, invece, ci escono 5 gemmi, cioè, 1250 agentoni, dall'altra parte della speciale è proprio 5 gemmi, vabbè, era ovvio che non mi usciva, né vi usciva 50 agentoni, né lo speciale, era ovvio che uscivano 5 gemmi, era ovvio, ora, ragazzi, andiamo a prendere l'offerta del countdown per Natale, che oggi è un, contro la luce per Natale, che oggi è questo qui, vi ricordo che sto facendo il video sabato, ragazzi, è domenica, il giorno in cui esce il video, che è domenica, sono 5 gemmi, nell'altro accaduto mi sono usciti 30, vabbè, cioè, il video esce domenica, domenica, oggi, per me è domani, però, oggi, per chi sta guardando il video, e, ci sarà un'altra offerta, eh, gratuita, per la, con torno a visce per Natale, allora, ragazzi, però, è il momento di andare a provare il nuovo evento 3 Tris, che, stanno molto, ragazzi, ha fatto proprio uscire, eh, quasi alla vigilia di Natale, un, qualche giorno prima, ma è troppo leggendario, e io, volevo farlo, alla vigilia, però, ragazzi, domani esce un video leggendario, ragazzi, come il video che è uscito anche, due giorni fa, in cui vi ho letto, e, finalmente, sono arrivato le vacanze natalizie, e vi ho chiesto se siete contenti, se siete carichi, perché io, lo sono, vai, ragazzi, mi raccomando, non mancano poi in live alle 10 del mattino, che facciamo una live leggendaria, ragazzi, per la vigilia, non potete mancare la vigilia di Natale nella live di PixMax, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, eh, mi raccomando, allora, successivo, è un po' lento, devo ammetterlo, eh, però, si è tipo bloccato, cosa è successo? What, 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 what is it? Registrazione, stumble guys, si è chiuso, un casino, ragazzi, ragazzi, non so quale sia il motivo di tutto questo bug, però, vabbè, ragazzi, adesso sto riaprendo, lo riapriamo insieme, speriamo che vada, però, cioè, aspettiamo che si apri un attimo, perché adesso vedo lo schermo bianco, speriamo che vada, ragazzi, voglio provare l'evento di Tetris, ok, ragazzi, almeno adesso si vede la schermata di stumble guys con la musica, vediamo, adesso, c'è scritto accesso, vediamo, dai, si dovrebbe apparire, e poi vorrei andare a fare l'evento, io, questo qua è il video in cui faccio l'evento, ragazzi, sono già due minuti che spero di entrare, oh, ma quanto ci mette, ragazzi, così, mamma mia, ci siamo, ragazzi, dovrebbe essere aperto, si dovrebbe essere aperto, ora, c'è anche lo ripeto di MrBeast, però, ragazzi, oggi, siamo qua, per fare la caduta di Tetris, se mi va, per favore, non ti baggare ancora, ti scongiurro, ragazzi, registro, bisogna vedere se si bagga, bisogna vedere se si bagga, ragazzi, voglio vedere se si bagga o no, ancora 30 due time, ma, vi aggiungo quando si parte, quando parte la partita, ok, ragazzi, c'è il caricamento, dovrebbe partire, però, non sono mai paura che si bagga, ragazzi, non sono mai sicuro, non sono mai sicuro, speriamo che si, chi parte, è ancora il caricamento, ragazzi, si è baggato ancora, non capisco che sta succedendo, ma si è baggato ancora, è un gran problema, cioè, devo capire qual è il problema, adesso ci riprovo, vediamo come va, è riaperto, io voglio sperare che, siccome è la vigilia, adesso funzioni, ma mi sembra che non funziona, ragazzi, dobbiamo anche riscattare questo regalo gratis, questo tetris qua, è il regalo gratis che vi vogliamo, tra l'altro, perché è una figata, ora proviamo ad andare a giocare, ma, ragazzi, io non credo di riuscirci, perché non mi fa giocare, non mi fa giocare, ragazzi, guardate, non riesco a cliccare, e 20, ragazzi, cioè, no, non è partita una partita, è normale, ragazzi, non riesco a giocare, non so che dire, ragazzi, abbiamo giocato, vediamo un po', ho messo la partita normale, perché gli eventi non vanno, se non vanno neanche la partita normale, questo video si chiamerà durante, niente, ragazzi, non va, non va a Stambul, ragazzi, ok, adesso stanno andando, dai, siamo riusciti a fare una partita, guarda quanto va, 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 va il gatto, non capisco qualsiasi problema, dai, ok, vai, mi ricordo, dai, ma sta lagando troppo, è impossibile, No ragazzi Dai pazzire qua Ragazzi è impossibile Dai alla vigilia Forse c'è troppa gente che gioca Non so che dirvi ragazzi Buona vigilia a tutti Purtroppo ragazzi Si è pagato tutto Non siamo riusciti a dare neanche una partita Forse perché troppa gente sta giocando Quindi non si riesce a giocare Comunque vi ricordo di lasciare un like Un'iscrizione nella campanella Condividere i video di tutti i nostri amici E magari dopo il live al 10 del mattino Buona vigilia a tutti ragazzi Un video tutto bagato Per la vigilia è perfetto Più o meno Lasciate un like Un'iscrizione nella campanella Condividete i video di tutti i nostri amici Seguite i nostri amici Su Discord Quindi c'è il link in descrizione Sesto link in descrizione Per presentare i miei server Discord Primo link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per comprare i miei t-shirt Per estremizzare di Rixmax Terzo link in descrizione Per fare una piccola donnazze Quarto link in descrizione Seguite i miei susscriviti Alla prossima Anche lì E magari dopo il live Lo riesce il mattino E tutto questo vi saluto Vi ringrazio Ciao Ciao